Allora bimbi, mamma mia chi è? Chi è che urla così? Eccolo lì, un conuro del sole, color giallo col diretti, che è arrabbiatissimo perché la sua pappa, vedete, è quasi finita. E allora adesso gliela diamo, tanto però vi faccio conoscere gli altri, facendo piano che se vengono male, mi sgridano tutti. Sì, eccola, lei è la rosella Rosi, però vola troppo! Ma, e lui? E lui chi è? Barabba! Lui si chiama Barabba, è molto geloso. Adesso, Rosi, se stai buona anche tu, eccoli vicini. Se state buoni, tutti buoni, vi porto da mangiare. E cosa mangiano i nostri pappagallini? I semi. I semi che in campagna si usano. Ma guarda quanto sei bello tu. Ma quanto sei bello. Sei bello! Eh?